In questo gioco abbiamo fatto praticamente qualsiasi cosa, siamo riusciti a scappare con la barca nell'ultimo video Siamo riusciti a sconfiggere Jason, siamo riusciti a scappare con la polizia, con le auto, a vincere il game con Jason Abbiamo fatto davvero credo tutto quello che si può fare nel gioco, tranne collaborare con gli altri player Quello non l'abbiamo mai fatto, quindi questo oggi ci proviamo, proviamo a vedere se riusciamo a vincere un game Dato che fanno sempre schifo, ci fanno perdere, ci fanno morire, almeno proviamo a comunicare con loro e vedere se ne esce fuori qualcosa di bello, speriamo Io penso di no, però ci proviamo, diciamo che è la missione più difficile di sempre e secondo me infatti falliremo miseramente Ma proviamo a vedere se riusciamo a tirar fuori qualcosa di buono dai player che troveremo Per e ti stanno disturbando? Eh, allora, praticamente questa ragazza, che si chiama Shadow Lady, oltretutto come la youtuber, ma non penso sia lei, ha iniziato a seguirmi e dirmi cose, ma non lo sto capendo bene Come, 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 batteri Andiamo, andiamo, seguiamola, seguiamola, stai a cercare di seguirla, andiamo a fare, andiamo con lei Ah, devi prendere la batteria, dice, vai Ah, ok Batteri, come, come Batteri, come Ok Ok Let's go, let's go No, 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 car Car, car, ok, ok, ok Ti seguiamo Ma poi sembra piccolissima la voce Sì, 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 sembra una ragazzina piccolissima Eh, la scortiamo, la scortiamo Open the door, open the door Open the door, ok Sta arrivando qualcun altro, yellow tube Vai, 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 aspetta, io devo cercare di sentire te, di sentire loro Stiamo iniziando a parlare tutti Qua ci stiamo tutti alleando, è bella questa partita, Steph, è bella Logis, logis Cosa sta succedendo, Ferre? Io lo capisco bene Allora Si sta chiudendo Perché credo che fuori ci sia Jason Open the door, open the door Oh, no, 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 no Ti salvo io Run, run, run Scappate Scappa, Ferre È troppo un casino così Oh, ci abbiamo provato, dai, era divertente Ferre, occhi E c'è fuori Della finestra Sto provando Veloce 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 Andiamo via Dove sei Steph? Ma non voglio lasciare la ragazzina Poverina Mi dispiace un sacco E Ferre ma che facciamo? Per una volta che un player Mi stava simpatico Me lo deve uccidere Jason Andiamo via Andiamo via Pensa a te Per ora pensiamo a correre E' ancora lì Ma io non so come proteggerla Perché ho utilizzato la mia arma Che era il flare E tu hai la batteria Quindi siamo disarmati Aiuto Aiuto No Ferre Non ho armi Non ho armi Ferre No liberati Steph Ma dai Perché ti sei fatta chiapare No Steph Io ti volevo proteggere Volevo tirare dei petardi Volevo salvarti Io ho preso la batteria Volevo essere l'eroe Ho preso la batteria Perché ha ascoltato lei Quindi non ho armi Lo so E' stata un'idea terribile Entro con te Entro con te Era un'idea terribile Guarda Vabbè Adesso seguo a te Oh mamma mia Mamma mia Stai calma Ferre Stai calma Stai calma Mi prendo un'ascia E mollo Questo core mutant Che parla Secondo me sta dall'altra parte Del mondo Ah ma è Jason Cosa sta dicendo Non lo capisco Sta respirando E fa un casino Col microfono Lo so E' Jason che parla Insultalo Ferre Insultalo Questa qui continua A provocare Jason Sì E l'altro si triggera Lo stai insultando Ma lo stai insultando Malissimo No Ferre Don't kill me Please Non ha funzionato E ride E ride Hello darkness My old friend And Steph nessuno ti vuole sentire Cantare Scusa Scusa Hello Non mi risponde nessuno Hello Steph Oh hi Ferre Nikki How are you Fine Thanks Non ti rispondeva nessuno Mi stava pure dispiacendo Capito Che ti devo dire Che ti devo dire Mi stava dispiacendo Mi hanno scritto Host gay Grazie Grazie Thank you Che gentili Vabbè però aspetta Aspetta Con quella vocina Che stai facendo Un po' gli insulti Te li meriti Era una voce bellissima Un po' gli insulti Te li meriti Comunque Adesso vediamo Chi troviamo Ho visto già Che c'erano almeno Uno o due russi Mi serve Google Translate Per parlare in russo Allora vediamo Allora il russo Non ce la potrei mai fare Sono in un campeggio E Quello deve essere da solo Ok Allora siamo vicini Io sono quella sotto di te Arrivo Perfetto Perfetto Raggiungimi Allora qui mi sa Che almeno un'arma Dovrei riuscire a trovarla E invece no Oh che brutta cosa Vabbè allora inizio Ad andare nella casetta Più vicina possibile Ok Fere Vediamo come si può scappare Ok 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 C'è anche la barca Lo sai Oh Bello Sì non è male Però lasciamo perdere Allora Non me la sento No facciamo così Siccome tu sei scappato in barca E mi hai lasciato sola Adesso mi prepari una barca E mi porti via No Fere No Non sai quanto è difficile scappare con la barca È successo in un altro episodio Ma è successo Non ce la possiamo fare È successo Al massimo chiede ai due player di cercarti tutto Aspetta Lilium sta cercando di parlare Fere Lilium vuole comunicare con noi Eccoti 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 Allora Vieni vieni Cosa ci vuole dire Non lo so andiamo a parlarci Ok Cosa ci vuole dire Non lo so Hello How are you Nice nice All fine Stai spaventando Comunque Mi sta venendo un dubbio Stef Sì dimmi Ma a venerdì 13 Gocano solo ragazze Penso di sì Fere A sto punto penso di sì Che da quando stiamo comunicando Stiamo trovando solo ragazze È assurda sta cazzo Chiudiamo la porta Chiudiamo la porta Jason Ieri 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 Jason Jason Non so cosa stavo dicendo Perché ho paura Allora mi serve un'arma Mi serve un'arma Mi serve un'arma Fere l'hai visto pure No 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 Io sono dentro con voi E sono dentro l'albergo Ok 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 Allora io comunque ho dei petardi per difenderci Ok perfetto Però No lui in zona è la macchina È la macchina Ok 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 L'ho sentito L'hai sentito? Sì ci sta cercando di far paura Jason Oh mamma mia Cos'ha rotto? Non lo so una finestra Ma io ho paura Jason Ma Jason È qua Jason Ma dov'è? Dov'è? Fireworks for you Dov'è? 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 Aiuto vedo l'altra ragazza a scappare What the bug? Dove sei Steph? What happened? Dai Steph Zitto Sto cercando di concentrarmi Fede c'è un bug assurdo Che bug? Che bug? Allora Sei morto? Lui mi stava cercando di acchiappare Ho tirato i petardi Mi ha mollato per i petardi Io fluttuavo in aria Dopo i 10 secondi sono morto Allora praticamente Farò da traduttore Stanno parlando Un russo E una ragazza inglese È successo questo La ragazza inglese Ha trovato Il repellente Il repellente Il fusibile Il fusibile che serve Per aggiustare il telefono E poter chiamare la polizia Quindi il russo Ha iniziato a scortarla in giro Perché vogliono aggiustare il telefono E chiamare la polizia Eh l'ho capito Il problema è che c'è Jason Lì vicino Lo vedi? È entrato in casa È entrato in casa Tenta a fare Segui 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 il rosso Jason I kill you Ma vi ha chiuso la porta Che male di cazzo Ma no però Scano chiudere È ancora Uh È pazzo No Salvalo Salva il russo Ok l'hai salvato Bravissima Vai via Vai via Vai via Run 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 Ma vuole continuare a picchiarlo Ma come? Non possiamo tanto sconfiggerlo Non ha senso Stacola Aspetta che sto controllando Ok Lilium è ancora in vita Perfetto 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 Perché lì è al fusibile Fere continua a salvarlo Fregatene Bravissima Scusa Not me Sorry sorry Ho sbagliato Torna Le due È tornato Torna in vita signori Torna in vita Possiamo ancora farcela Saluta tutti Possiamo ancora farcela Sono tornata Adesso mi sento tutti Jason Non so dove andare Steph Sono incastrata al pieno Mi ha scoperto in un armadio Sono morto I will save you Mi devi salvare nell'albergo Sì No Mi ha seguito ovunque Non so più dove sono finito Tutti gli altri Sono morta Fere M'ero appena tornato io Bye Ma mi dispiace Anche piangendo L'ho sentito Jason I am the hero Non mi risponde L'altra ride Lì ride Sì sì Lei ride sempre Sta divertendo You can't kill me You can't kill me Because I am the hero Jason You run away Che è successo Dove è andato Non lo so Dove è andato Non lo so Ha preso qualcun altro No forse Lilium Lilium no Run away Run away Allora la proteggo Lilium non die Non morire Ok ok Qua 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 Lo vedi Lo vedi Lo vedi Io continuo Sì 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 Distrailo Distrailo Ma che fanno lì Era questa che cerca di picchiarlo Tranquilli Guardale Ci penso io Vorresti prendermi Guardale Vorresti Ma sono cattivissime Lo devono stendere Lo devono stendere Ok si è steso da solo con i petardi Ok Stanno mettendo la batteria Aspetta Ok Lo steso Bravo 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 Nice 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 Jason I am the hero You can't stop us Ok 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 Allora nell'auto non ci stiamo tutti Quindi adesso qualcuno Ma io volevo partecipare a questo game Bellissimo È bellissimo Allora Allora Comunque Steph È più bello comunicare Che spararsi in faccia Questo lo possiamo dire Che è più bello Ah ma non abbiamo la benzina Ragazzi Ma che state facendo qui allora Oh 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 Mi riallontano un attimino dagli altri Perché bisogna trovare la benzina Se vogliamo fuggire Io Mi sono fidato di loro Pensando Oh 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 Stai calmo Stai calmo Ho visto posto di vicino Ok stai andando in casa Ok 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 Stai andando a qualcun altro Qui hanno chiuso Quindi hanno già lootato Vediamo tipo In questa magari No Hanno già preso anche da qui E non so dove trovare qualcosa Che loro non hanno lootato Forse in questa casa Forse in questa casa Sento delle urla Non lo so Mi sa che il nostro gruppo Si sta diciamo Sciogliendo piano piano Eh lo so Mi sa che siamo rimasti in pochi Ne abbiamo assotto a 4 di 8 Ok vediamo se trovo qualcosa I have the gas I have the gas Defend me Defend me Oh ok 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 No ma dai Defend me please 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 Bye Bye Sorry mi bro Sì poverina Lei ha preso la benzina Magari può finire Allora Allora magari lei riesce a completare Oh povera No ha preso la trappola Credo che farà Ok si è liberata subito però Ce l'ha fatta Ok Questo è un personaggio che è veloce a liberarsi Credo che sia in pericolo Sì 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 Ci rivediamo Ci rivediamo in un altro giorno In un'altra vita Ciao Possibilmente Arrivederci Mi dispiace È stato comunque vittoriosa questa partita Quindi va bene Bellissima Ti ha preso? Mi ha preso Ok ok Vabbè Mi ha preso So cosa fare Dovrò chiamare cosa? Tommy Chiamo Tommy Chiamo Tommy Appena trovo Tommy Lo chiamo Non è possibile Io ogni volta Allora Nasco lontanissima da te Quindi devo fare metà mappa a piedi E ogni volta puntualmente Mi ritrovo Jason in faccia Mi ha chiamato la polizia Questo è bello 5 minuti La puoi giocare E sono salvo Bravissimi Ecco ti Allora Allora Sono vicino a quest'auto Spero che non ci sia Jason in questa zona Perché non sono armato benissimo Cioè ho una cura E dei petardi con un'arma Non è male Non è male però Posso avere ancora di più Allora per ora io mi metto In questa casetta qua Ok Ok sto sentendo gente urlare Quindi qualcun altro è andato Ma Tommy l'avete chiamato? Eh no Ancora non l'abbiamo trovato Vediamo se magari lo trovo qui Tommy Tommy Ci serve Devi far tornare a fare Ma dentro il telefono La ricetta trasmittente Mazza da baseball Quindi no Però la mazza mi piace di più Rispetto a quest'arma Quindi faccio così Vediamo se qua c'è qualcosa di buono Lì sì c'è la benzina Che non serve male Seconda cura Giusto così Nel caso in cui c'è bisogno Posso fare il dottore E adesso Stavo pensando Dato che deve arrivare la polizia Potrei iniziare ad andare qua O nascondere Capito Vai vicino alla strada Aspetta aspetta C'è qualcuno Hello Cosa ti avevo detto? Jason è andata a prendere quei due Che avevo visto prima Già 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 Allora Allora Fere Io mi metto Hai due minuti Quindi nasconditi per due minuti E poi corri dritto nella strada Quando arriva la polizia Esatto Io mi metto qui dentro Vai Perfetto Vai Tutto a posto Tutto a posto Allora si vicino alla strada Perché non vedo la mappa Allora si guarda Questa è la strada Ovviamente Io non posso sapere Se la polizia sarà qui O qui Se sarà qui Rimarrò parecchio fregato Però devo sperare Però hanno chiamato Tommy Jarvis Ma mi sa che non sei rinata tu No Mi sa di sì Che tristezza No beh io non vedo niente Quindi no non sono rinata Mi spiace Fere Allora Fere Mi sbiglio perché cammino piano Ok Mi sbiglia anche tu però Altrimenti ti scopri No io non ho bisogno Io non sono in partita Ti senti Ti senti Muoviti Comunque Allora sono a metà strada Quindi mi sono recuperato Tutta l'energia Penso di andare piano Per un po' di tempo Così lui non mi vele E poi lo fai lo sprint finale E poi faccio lo sprint finale Se lui è lì Gli tiro i petardi addosso Continuo dritto E vado dalla polizia Ok vai Ti piace? Sì sei molto lento Allora guarda nella mappa Io non posso vedere la mappa Maledetti stanno scappando in tre Disgraziati Ma hanno preso un'auto No Ma dai ma E Jason che fa? Dorme? Cioè cos'è successo scusami Sono in tre che stanno arrivando Dove si scappa dalla polizia E Jason non sta facendo nulla Corri allora Corri vattene Ma è una disgrazia Perché ora loro tre scappano Jason è lì Jason è lì Ecco qua Porca miseria Hanno rovinato il piano Porca miseria E sono riusciti a scappare tutti e tre Ma rimanendo Io te l'ho detto che dovevi fare gruppetto con loro Steph Che dovevi Unirti al loro Al loro gruppo E cercare di fuggire Tu li hai ignorati Ed è successo questo Però c'è ancora un tizio E quel tizio sta correndo Ma Jason mi sa che ha capito la lezione Can do this Non ha neanche un'arma È so sad Ma è tristissima Ma è stato davvero triste Addio Ragazzi riusciti a dare un like E questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao